Musica Tanta gente nelle piazze di Domodossola nella serata di sabato 8 luglio durante note d'arte in cui la città è stata colorata dalla musica, dall'arte e dal divertimento. Sorrisi strappati a tutti, ai bambini con i diversi spettacoli di burattini e agli adulti con la possibilità di ammirare le opere di Guercino, De Nittis e Quinellis a Casa dei Rodis e a Palazzo San Francesco. In piazza Mercato raclette e fan d'anne dalla Svizzera e non sono mancati i gruppi e le band che con la loro musica dal vivo hanno animato le piazze e le vie della città. Soddisfazione espressa dall'assessore alla cultura di Domodossola Daniele Folino. Durante la serata la fluenza alle mostre era notevole e questo conferma una buona valorizzazione delle nostre esposizioni di qualità. Folino ha confermato la presenza di migliaia di persone per la città. È l'inizio di un percorso ed è già in programma l'organizzazione per il luglio prossimo della seconda edizione di note d'arte. Il ricavato sarà donato alla Casa di Riposo di Domodossola concludendo così un progetto che ha la cultura per mezzo e la solidarietà come scopo. Grazie. 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 Grazie.